Sabato pomeriggio a Dattilo, in occasione della celebrazione delle festività di San Giuseppe, c'è anche previsto un raduno per Vespisti. Gaspare Palermo è presente a Vespa Club Trapani, cosa ci sarà e come si parteciperà a questo raduno? Noi siamo onorati di partecipare a questa prima manifestazione con la Prologo di Dattilo, ci hanno convocato e invitati e abbiamo dato la nostra disponibilità. Andiamo a occupare uno spazio dalle 17 fino alle 20, intrattenendo un po' il pubblico con la curiosità delle mitiche Vespe che si fanno sempre apprezzare nella loro particolarità e bellezza che hanno motorizzato tutta l'Italia e tutto il mondo. È previsto anche un giro per l'antico borgo di Dattilo? Sì, è previsto un giro e io nell'occasione voglio invitare tutti gli appassionati di Vespa che in quella data vorranno partecipare. Noi alle 17 saremo lì a Dattilo e andremo a fare una dimostrazione di equilibrio che viene chiamata una gara di lentezza. Per cui in questo spazio occuperemo, poi faremo un giro della Prologo, metteremo i mezzi lì a disposizione fino a E e alla fine ci sarà una premiazione sempre prevista dalla Prologo che andrà da 1 a 5. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, ma è tanto per premiare un qualche cosa perché loro hanno ritenuto opportuno di mettere queste coppie in palio e ci sarà questa partecipazione.